Buongiorno Napoli, buongiorno amici, parinda, paesana e conoscente, amici di Facebook, amici di Youtube e amici di Whatsapp, un abbraccio, un bacione e buongiorno a tutto quanto. Se stamattina vi siete scegati e la giornata non è cominciata come pulita, non va pigliata, non ci ha pensata e non va rannata, nessuna giornata è tale quale è nata, ma io vi auguro con il cuore la più bella giornata. Qualunque cosa succede non vi scordate mai che di vita ce n'è una sola e quando è passata tutto lasciato è perduto. Perciò ride bene bene e pensate a salute. La vita è come un viaggio, un viaggio ride nel treno, perché proprio come il treno la vita ha le sue stazioni, i suoi cambi e i suoi binari. E purtroppo pure i suoi incidenti, gli è dato a rinta capa tutto quello che va a dolore. E non pensate mai che siete sfortunati. C'è sta milione di gente che adesso la vita soglia fa tenere quella che ha tenuto voi. Cose semplici e cose preziose che abbiamo riscontato, che per colpa dell'abitudine non ne notiamo più. Godiamoci sta luce che ogni giorno fa luce in cielo. Godiamoci sto sole, godiamoci la pioggia o vento e nuvola. Vrimmi bene questo viaggio che domani non sarà oggi. Vi giungo a tutti quanti un abbraccio grande grande, un dolcissimo buongiorno. Per adesso è tutto il giorno. A chi mi apprezza per come sono e non mi scorda mai una buona giornata particolare con tutto il mio cuore. Serena e interessante giornata a tutti, un abbraccio e un bacione a tutti tutti quanti. Questo video è una produzione di Napoli è sempre bella. Pagina Facebook, canale YouTube. Il video non è scaricabile, non è pubblicabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.